Rilassati, fai un bel respiro Molto bene Abbiamo la sezione toracica, lombare, sacrale e un segmento cocciglio Non lo vede, questo, non so se lo vede, questo è il cranio e queste sono le cervicali, d'accordo? I segmenti cervicali E questo invece è la dietro, ok? Una parte, respiro, 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 respiro l'osso di qua Bene Molto bene adesso, l'ultima manovra Prego Oh, salve Prego, prego, si accomodi Ok È la prima volta che viene da noi, giusto? Bene Andiamo pure il questionario Ok, grazie D'accordo, l'ha compilato tutto Ok Va bene Dopo faremo delle domande più specifiche Per capire meglio, insomma Di cosa bisogno Intanto Per prima cosa Volevo un attimo Spiegarle Anzi, posso darle del tu Perché ci vuole un po' di fiducia in questa pratica E quindi anche un po' di confidenza, ok? Quindi ci diamo del tu Dammi pure del tu Allora Allora Prima di cominciare però tutto Per un attimo spiegarti cosa andremo A fare E Una piccolissima, insomma, teoria dietro Ok? Vi faccio aiutare delle immagini Cerco un attimo Ok, eccole qui Allora Come chiropratico Noi Fondamentalmente ci occupiamo Del benessere Della spina dorsale Del sistema nervoso periferico Allora All'interno Della nostra Colonna vertebrale Questa qua, vede? C'è un qualcosa di veramente prezioso per il nostro corpo Che è il midollo spinale Il midollo spinale è, diciamo, la parte principale del sistema nervoso periferico Invece il cervello, diciamo così, è la parte del sistema nervoso centrale Cosa succede? Quando, ad esempio, uno stimolo, tocchiamo qualcosa, arriva uno stimolo alla mano, ai nervi della mano Il segnale passa dalla mano, arriva fino al midollo spinale e sale al cervello Il cervello elabora questa informazione, riscende, ritorna la mano e capiamo cosa fare Ad esempio, non so, era caldo, togliamo la mano, ok? E' un qualcosa di, ovviamente, velocissimo e impercettibile, d'accordo? Però succede così Il midollo spinale, appunto, è collegato a tutti i nervi del nostro corpo E cosa succede fondamentalmente? Quando le vertebre che proteggono il midollo spinale Si disallineano, si spostano anche di poco E schiacciano i nervi e questo schiacciamento può provocare, appunto, dolore Il movimento, le faccio vedere un attimo le vertebra Fondamentalmente è questo osso qui Vedete questo osso qui? Fra una vertebra e l'altra c'è una specie di cuscinetto Questo cuscinetto si chiama disco intervertebrale E serve, appunto, ad ammortizzare tutti i movimenti che noi facciamo La schiena è portatrice, diciamo, risente di ogni movimento che facciamo E diciamo che lo spostamento delle vertebre Può essere dovuto sia a un trauma, a un infortunio principale Oppure anche solo a sbagliate abitudini, sbagliate posture Insomma, possono esserci anche delle cause multifattoriali, ecco E questo, appunto, è il perché sentiamo dei dolori, d'accordo? Allora, il midollo spinale è diviso in sezione cervicale Che è diviso in otto segmenti Eccoci qua Sezione cervicale, che è diviso in otto segmenti Sezione cervicale, che è diviso in otto segmenti Non corrispondono esattamente alle vertebre, ma più o meno Insomma, siamo lì, possono essere ricondotti l'uno all'altro Poi abbiamo la sezione toracica Lombare Sacrale E un segmento cocilio Da quello che ho sentito al telefono Lei aveva problemi soprattutto alla zona cervicale Infatti le abbiamo anche detto di portare delle radiografie Ce li ha? Ok, perfetto I muscoli della cervicale E le torneranno un po' i dolori Innervano ovviamente da C1 a C6 Tutti i muscoli del collo I muscoli flessori del collo Ma anche ad esempio C3, C4 e C5 E sono collegati anche al diaframma E noi Adesso insomma vedrò di solito però Tutti i dolorini cervicali sono fra C3 e C7 C7 invece è già collegato più alla spalla Ok, bene Anche il movimento del brazzo eccetera Bene, quindi questo è ciò di cui ci occupiamo noi Ma questa sezione è ciò di cui andrò a occuparmi io D'accordo? Questo è il collo e la parte cervicale Bene Allora adesso le guardo un attimo Ok Adesso Prima di cominciare la vista vera e propria Prima anche di vedere la radiografia Volevo solo spiegarle Diciamo cosa andrò a fare e cosa aspettarsi Fondamentalmente andrò a fare tutti dei movimenti secchi Accompagnati e poi secchi E soprattutto per quanto si manipola la colonna vertebrale E come faccio noi Si sentono molti crack, molti pop Non saprei come definirli Si sentono e appunto Sento proprio l'ossia scricchiolare Fanno uno scrocco molto forte E' molto Molto scenica come cosa In realtà non si deve preoccupare Assolutamente non è invasivo Non provoca dolore Anzi Molte persone provano un sollievo immediato E appoggio un attimo questo E il crack è dovuto fondamentalmente a un liquido che Si circonda appunto le articolazioni Quindi in questo caso anche quella della colonna vertebrale Chiamato liquido ossinoviale Che è pieno di piccole bollicine Che con un cambiamento di pressione Escono e fanno questo rumore d'accordo Ma non è nulla di pericoloso Solo che può Diciamo sorprendere all'inizio Ok? Molto bene Andiamo a vedere le lastre Mi appoggiate qui Allora Partiamo Vi ho detto di portare e di farsi fare le lastre Sia al collo e basta Sia a tutta la colonna vertebrale D'accordo? Ok Ok Andiamo un attimo Allora 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 Sia al collo e vi ho detto che Lo faccio vedere dietro Ok? Ok? D'accordo Ok? Ok, da qui posso già cominciare a capire dove dovrò manipolare, però poi ovviamente andrò anche a sentirlo, d'accordo? Perché può essere una manovra solo da una parte o da entrambe, dipende. Comunque, qui la cervicale si vede che c'è qualche problemino, però. Bene, e poi qui. Ok, abbiamo avuto la quale vertebrale, d'accordo? Lei soffre anche di problemi lombari, magari su quello ci lavoreremo un'altra volta, sì. Però le dà più problema il collo, ha un fastidio più... ok, più invasivo. Guardiamo un attimo la sua scheda, ok? Ok, allora lei ha segnato d'accordo il collo dietro, anche questa zona. D'accordo, malattie... ok. Va bene, va bene, va bene. Allora adesso cominciamo, diciamo, la visita vera e propria. Devo intanto rilassati, ok? Devi essere sempre e avere sempre i muscoli rilassati, d'accordo? Non esageratamente rilassati, non così, però rilassati, d'accordo? Ok, adesso semplicemente faccio pressione sul collo per sentire. Ok, vengo un attimo anche dietro. D'accordo, ok. Allora, noi faremo delle manovre sia in posizione seduta, come sia in questo momento, e poi anche in posizione straiata, d'accordo? Ok, bene. Saranno movimenti, diciamo, all'inizio lenti, e poi con un movimento secco, preciso. In questo modo non provocheremo trauma, d'accordo? Con un movimento secco e preciso. Ok? Ok, adesso prima di cominciare, vado un attimo a girare il tuo collo da una parte. Ok. Ok, senti dolore? Dall'altra. Ok. In basso. Ok. E in alto. Cosa senti? D'accordo. Ok. Va bene. Allora, cominciamo. metto le dita sul tuo collo e fisso bene con i miei pollici, mi appoggio sul tuo viso, ok? respira, rilassati, molto bene, rilassati, respira, ok? rilassati ecco qua ti ha fatto un po' impressione? sentire proprio scrocchiare? ok, un po' si, ci può stare, però tutto bene cosa hai sentito? sollievo te l'avevo detto ok, bene adesso stesso, allora, mamma è ottimo sentire da questa parte ok, tu intanto rilassati, respira d'accordo ci sono rilassati fai un bel respiro molto bene molto 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 bene ok? come va? bene 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 ora ti metto un brazzo qui sul petto molto bene e poi posso avvicinarmi? ok allora mi avvicino abbraccio ok dietro è come se ti abbracciassi in modo molto 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 affettoso, ok? ok e adesso continuo a fare una lieve 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 pressione finalmente ti sposto anche la testa, ok? continuo a fare pressione ok bene va meglio si, puoi abbassare il braccio ok respira siamo pronti per la seconda ok adesso questo sul petto sul petto molto bene così metto il mio braccio sotto alla tua altra oscella ok faccio una pressione, d'accordo? ed è come se ti abbracciassi forte 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 forte, ok? espira un bel respiro profondo continuo a fare pressione continuo e ok ok bene molto 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 bene vuoi fare una piccola pausa? allora ti faccio un attimo di domanda adesso come va? come stai? cosa senti ancora? prova di nuovo girare un pochino la testa ok e dall'altra parte no 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 non faccio nessun movimento brusco non faccio nessun movimento brusco come va? va già meglio? d'accordo? no, comunque ci sono altre manovre che devo fare su di te prima bene d'accordo possiamo continuare? posso procedere? adesso adesso andiamo a coinvolgere un attimo le cervicali ok, più basse la 6 ok vado a mettere una mano sulla prima costa che poi qui molti la confondono con pensano già sia il collo in realtà le costone finiscono qui l'altra mano sulla nuca in questo modo adesso ho messo l'altra mano appunto sulla tua nuca e piano 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 e ecco qua ok questo è stato è stato pesante bene bene sono contenta posso andare direttamente dall'altra parte respira respira adesso sempre una mano sulla costa un'altra sulla nuca rilassati 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 i muscoli respira 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 molto molto bene come va è un po' più di tranquillità rispetto a prima un po' più di fiducia in me la fiducia ovviamente bisogna costruirla però questa è diciamo una pratica per cui bisogna dare molta molta fiducia all'operatore eh sì bisogna però si vede la nostra professionalità anche come studio un altro bel respiro e passiamo alla prossima manovra per la prossima manovra andrò dietro di lei ok? ok? d'accordo adesso devo metterti un braccio sotto quest'altro vado ad appoggiare il mio braccio lungo la parte superiore del tuo petto d'accordo l'altro braccio invece sentilo lo senti e dietro al tuo collo sembra un respiro profondo morbidi morbidi muscoli abbraccio abbraccio e... ok molto bene ok scegli il braccio adesso l'altro braccio ok sul petto adesso io metto una mano sul suo petto d'accordo una la sente la sente dietro al collo ecco la sente bene 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 adesso torno davanti allora queste sono le ultime manovre che faccio diciamo da da posizione seduta adesso ne farò due con lei che ha appoggiato la testa sul cuscino d'accordo? quindi si appoggi eccomi qua adesso sempre muscoli rilassati in una posizione comoda d'accordo è molto importante adesso le sollevo il collo sento le vertiche cervicali d'accordo e adesso adesso farò un movimento secco di lato ok respira lascia i muscoli un bel respiro 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 d'accordo e dall'altra parte respiro 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 molto bene adesso l'ultima manovra l'ultima manovra ti metto le mani ecco qui sopra il petto d'accordo d'accordo metto un braccio sotto la tua schiena l'altro sopra il tuo petto così mi avvicino e faccio una pressione secca 3 2 1 molto bene adesso scambia le mani sul petto d'accordo ok stessa cosa pian piano ok ho fatto pressione eccoci qua questo primo appuntamento è finito qui e prima di dirci arrivederci voglio semplicemente insegnarle insomma istruirla su un massaggio un massaggio di movimenti da fare per riscaldare il collo la mattina o comunque quando sente della tensione allora lo faccio vedere io e poi lo faccio su di lei muovere il collo su una volta da una parte bene completamente bene completamente e senza coinvolgere le spalle e poi davanti dall'altro lato senta i muscoli sotto il collo e poi davanti e poi indietro e poi davanti in basso senta tutti i muscoli che si tendono poi avanti e poi un paio di giri ok non so se adesso sentirò tutti i muscoli convolti molto bello ci fa prendere molta coscienza del nostro corpo d'accordo quindi senza muovere le spalle un solo movimento da un lato un solo movimento dall'altro con calma indietro li sento i muscoli bene in basso bene e adesso un bel giro un altro giro un altro giro eccoci qua eccoci qua l'ha trovato bene le abbia dato proprio soddisfazione le abbia dato sollevo e in segreteria fisserà di nuovi appuntamenti sia di mantenimento sia magari per parlare della situazione lombare anche lì ci sarà molto da fare ci sarà anche molta soddisfazione e molti crack allora io la ringrazio anche della fiducia e ci vediamo al prossimo appuntamento è stato un piacere mio arrivederci